Il massimo della sicurezza possibile era raggiungibile con un investimento modesto di poche centinaia di migliaia di euro. Lo ha detto il governatore Michele Emiliano nel corso di un incontro con alcuni familiari delle vittime spiegando che l'installazione del sistema di sicurezza sarebbe stato montato sui binari solo dopo il raddoppio della tratta, sulla base di una logica aziendale di convenienza. La prudenza invece avrebbe dovuto prescrivere, secondo Emiliano, un rafforzamento delle misure di sicurezza decisa la replica a distanza dell'azienda. Ferrotranviaria non può decidere autonomamente sulla scelta delle opere da realizzare ma può solo provvedere all'esecuzione dei lavori decisi dalla stessa regione e con i fondi da essa stanziati. Tutta l'infrastruttura gestita da Ferrotranviaria, scrive l'azienda in una nota, è di proprietà della regione Puglia nel contratto di servizio è previsto che la sola attività di manutenzione spetti a Ferrotranviaria la quale può solo provvedere all'esecuzione dei lavori decisi dalla stessa regione e con i fondi da essa stanziati. Del resto, prosegue Ferrotranviaria, la regione Puglia era a conoscenza dell'evoluzione dei lavori in corso. Bisogna però dare atto alla regione Puglia di avere investito oltre 80 milioni di euro sul sistema SCMT dalla propria rete ferroviaria e si appresta a investire almeno altri 150 milioni per attrezzare tutta la rete regionale che si estende per oltre 700 chilometri. E' quindi difficile comprendere, conclude Ferrotranviaria, come si possa affermare che bastavano poche centinaia di migliaia di euro per eseguire detti lavori sulla rete ferroviaria.